Lascio un pezzo di cuore, un pezzo anche della mia storia professionale, personale se mi consentite. Questo è molto bello, però nello stesso tempo più si va avanti più diventa difficile. Quindi lascio anche questo tipo di emozione, questo tipo di sentimento che credo faccia parte poi dell'umanità di tutti noi. Il questore Dario Sallustio lascia la guida della questura di Arezzo, andrà a dirigere la questura di Lucca, dunque rimane comunque in una cittadina toscana. Sentiamo allora che bilancio ostila di questi quasi due anni nella nostra città. Due fattori possono essere sicuramente importanti nella crescita di un gruppo e di una società. Sono quelli della importanza di una squadra Stato forte, in grado di interagire, in grado di confrontarsi sui problemi. E qui senza dubbio l'ho trovata. E poi quanto sia importante la partecipazione attiva dei cittadini. Quella che noi chiamiamo sicurezza partecipata non è altro che una presa di coscienza del fatto che ognuno, ogni cittadino, ha un ruolo importante nel proprio futuro e nella sicurezza di tutti. Quindi ognuno deve fare il suo. Ad Arezzo gli episodi di microcriminalità, soprattutto i furti in abitazione, sono in forte aumento. Delle ultime settimane l'arresto da parte della squadra mobile di Arezzo del capo di una baby gang che stava seminando il panico da mesi tra giovani e giovanissimi. Il dato è sicuramente falsato dai due anni di pandemia. Noi abbiamo avuto due anni in cui, per ragioni evidenti e comprensibili, i furti e in genere tutti i reati, ma in particolare i reati contro il patrimonio, hanno avuto un calo drastico. È chiaro che, riaprendo un po', come è giusto che sia, tutte le attività sociali, è ovvio che abbiamo assistito, stiamo assistendo a una ripresa. Anche su questo è necessario che, e questo noi abbiamo cercato di investire, sia dal punto di vista della presenza sul territorio delle pattuglie, che abbiamo incrementato. Ecco, sull'Ufficio Prevenzione Generale è stato fatto un investimento importante qui ad Arezzo, ma devo dire anche sui due commissariati, compatibilmente con gli organici. È stato fatto un investimento perché credo che la presenza sul territorio sia comunque un valore aggiunto anche in termini proprio di percezione della sicurezza e poi dal punto di vista investigativo. Mi piace ricordare che anche su questo fronte la nostra squadra mobile ha comunque ottenuto risultati importanti, anche nel contrasto ai reati contro il patrimonio, ai furti, oltre che allo spaccio di sostanze stupefacenti. E l'impegno è stato forte e importante anche al contrasto della cosiddetta mala movida. Questa mala movida, ecco, perché poi non confondiamo quella che è la movida, che è giusto che ci sia e auspichiamo che ritorni a essere un fenomeno di tutte le nostre città e la mala movida è un fenomeno che sta interessando un po' tutto il paese. Bisogna fare attenzione, è chiaro, noi facciamo la nostra parte, però ricordo che questo è un fenomeno che va guardato da più punti di vista.